Vuoi sfidare il numero uno? Super Nintendo! Vuoi giocare in anteprima ai mondiali di calcio? Super Nintendo! Vuoi le emozionanti avventure di Batman? Super Nintendo! Vuoi arrampicarti sui grattacieli con l'uomo ragno? Super Nintendo! Vuoi la super cassetta con i quattro grandi giochi di Super Mario All Stars? Super Nintendo! Solo con Nintendo giochi con Super Mario! Super Nintendo da G! Il resto è game over!